Giorgio Locke, pausa estiva ma mai pausa per il mondo di Conad, state ragionando sulla prossima stagione invernale a settembre, che cosa cambierà? Ci sono in ballo delle rivoluzioni? Sicuramente qua sulla città di Imperia abbiamo un'intenzione importante sull'argine destro, vorremmo cambiare un po' di connotati, renderlo ancora più interessante di quello che è oggi, con tutta una serie di innovazioni, in qualche caso innovazioni, in qualche caso rafforzamento di reparto, per farlo un po' tornare indietro di vent'anni quando l'abbiamo aperto, vent'anni fa quando l'abbiamo aperto c'eravamo inventati la pescheria, la pasticceria, c'eravamo inventati tutta una serie di robe, era molto più piccolo comunque. Adesso vorremmo, pur avendo una struttura importante perché è un bel negozio e tutto quanto, riproporre un qualcosa di... un po' andando indietro nel tempo ma con della roba di oggi chiaramente, quindi è una... sarà una sorpresa e non lo dico perché non voglio dire cosa ci andremo a mettere, ma perché ci stiamo proprio ancora lavorando in questo momento. Partirà da settembre? Probabilmente nella prima decina del mese di settembre e quindi dedichiamo l'estate a studiare nuovi sviluppi di format. Rifletterete sotto l'ombrellone, insomma, mettiamola così. Per chi ci andrà sotto l'ombrellone sicuramente.